E se ti invitassi ad investire in un'azienda che fa pochissimi guadagni, figuriamoci alcun tipo di profitto, e che al 90% fallirà, tu mi prenderesti per pazzo immagino e probabilmente faresti bene, ma allo stesso tempo queste sono tre cose che hanno in comune tantissime startup che ogni giorno ricevono milioni e milioni di dollari in investimento e che hanno aiutato tanti investitori a avere ancora più profitti e a costruire dei veri e propri imperi. Quindi nel video di oggi andiamo a capire meglio come funziona l'investimento in questo asset così pericoloso, così volatile, quale le startup, e quali sono le unit economiche che ci sono dietro, in particolare perché gli investitori hanno paura, non vogliono che le startup facciano alcun tipo di profitto. Chiaramente ogni singolo investimento è molto diverso e dipende dall'azienda di cui stiamo parlando, dal settore in cui opera, dalle persone che ci sono dietro, ma se dovessimo decidere di raggruppare gli investimenti in startup nella maniera più semplice possibile, lo faremo in base allo stage, al momento di vita dell'azienda. Quindi di solito si usa una nomenclatura che va da pre-seed, aziende che hanno un minimo viable product, quindi una cosa molto semplice per testare la propria idea, per dimostrare che c'è interesse. Aziende in stato seed, quindi aziende che magari hanno già dimostrato che c'è interesse verso il loro prodotto, che c'è un minimo di quello che si chiama product market fit, quindi le persone sono disposte a pagare per risolvere il problema che il prodotto risolve. Serie 6, che sono aziende che non solo hanno questo product market fit in maniera più dimostrabile, ma che sono cresciute in maniera esponenziale negli ultimi due o tre anni, magari ogni anno hanno raddoppiato, triplicato i propri guadagni, e che riescono a dimostrare un percorso plausibile che li possa portare poi a listarsi sul mercato azionario oppure a vendere a un'altra grande azienda. E poi i series B, C, D e E, che sono fondamentalmente quello che abbiamo appena detto per il serie 6, ma moltiplicato, elevato all'ultima potenza. Poi a un certo punto si comincia semplicemente a seguire quella che è la nomenclatura, quindi series B semplicemente è quello che viene dopo il serie 6, series C è quello che viene dopo il series B, e l'unica differenza è che di solito poi questi round sono sempre fatti con più soldi a una valutazione dell'azienda più alta. Un'altra linea che dobbiamo tracciare per capire bene questo mondo degli investimenti è tra angel investor e venture capital. Gli angel investor sono di solito degli individui abbastanza benestanti che decidono di investire parte del loro patrimonio all'interno delle startup. Di solito questa percentuale magari va dal 10 al 30%, diciamo in media, poi ci sono persone meno conservative, più conservative, però capite che sono persone che sono disposte a perdere la maggior parte se non tutti di quei soldi perché il rischio è molto alto e come ci insegna anche le basi dell'investimento c'è chiaramente anche una potenziale di compensa alta. Ci sono i syndicate che sono un po' una via di mezzo, ne parleremo magari in un altro video, e poi ci sono appunto i VC, i venture capital. I venture capital funzionano come una vera e propria azienda, i VC vanno da privati, vanno da fondi pensione, magari anche da istituzioni, raccolgono soldi a loro volta, e poi alla fine, alla chiusura del fondo che è stato creato con appunto tutti questi soldi messi insieme, eventuali profitti vengono distribuiti a chi ha messo i soldi e a chi ha gestito il fondo. Ma quindi cos'è che spinge queste persone a investire in un qualcosa di così pericoloso? Qual è il tipo di ritorno che si aspettano per giustificare tutto questo rischio? Noi sappiamo che infatti per esempio il mercato azionario americano storicamente fino ad oggi ha avuto un ritorno del 7% medio anno dopo anno ed è usato un po' come il benchmark per tutti gli altri tipi di investimento, anche se nei prossimi anni si pensa che questa media possa diminuire. Però sappiamo che per esempio le persone investono anche in titoli di Stato che magari danno l'1% annuo di guadagno perché sono più sicuri, sono più stabili rispetto appunto al mercato azionario. Bene, viceversa per asset che come le startup sono illiquidi, quindi non possiamo prendere il denaro che abbiamo investito una volta che l'abbiamo messo, è molto più difficile tirarlo fuori dall'investimento rispetto al mercato azionario quando potete andare su The Giro, su Interactive Broker e semplicemente ritirare i soldi dal vostro conto. Sono più volatili perché anzi per molto tempo neanche riusciamo a tracciare il valore dei nostri investimenti e sono chiaramente anche molto più rischiosi perché nello stock market è molto più difficile che un'azienda vada a zero nei prossimi 5 anni se fate una buona selezione dell'azienda in cui investite, anche se chiaramente non è impossibile. Bene, quindi per compensare tutti questi aspetti negativi, le persone che investono in startup in media si aspettano un ritorno tra il 20% e il 30% annuo, seguendo poi sempre la regola d'oro degli investimenti per cui più è alto il rischio, più è alto anche il potenziale ritorno e viceversa, almeno per gli investimenti normali, se investite in cose sbagliate magari c'è semplicemente un altissimo rischio e un ritorno quasi zero in maniera sicura, però questi sono altri discorsi. Bene, sempre in base a questo aspetto, di solito più investiamo all'inizio della vita di una startup più questi ritorni sono aspettati, sono ancora più alti per ogni singolo investimento perché chiaramente una maggiore percentuale di startup all'inizio fallirà rispetto a una percentuale di startup che invece è già in forte crescita e quindi ha dimostrato di poter arrivare almeno fino a quel punto, cioè è già stata una scrematura, ecco mettiamola così. Quindi, quali sono le formule economiche dietro questo tipo di investimento? Come avrete capito, la maggior parte delle startup non arriva neanche a 5 anni di vita e nel momento in cui una startup fallisce, tutti i soldi che io come investitore ci ho messo dentro sono persi, tendenzialmente questo è quello che succede. Il 50% delle startup, queste poi sono medie che cambiano tantissimo in base al paese, in base con cui state parlando, ecco, però se parlate con una persona media all'interno del mercato queste sono più o meno le percentuali. Il 50% delle startup in cui si investe, diciamo, in fase seed, quindi in fase iniziale, va a zero. Io ci metto 10.000 euro, 20.000 euro, un milione come VC e quel milione non lo vedo più, è scomparso nel nulla, blown in the wind. Il 30% delle aziende in un certo senso ripaga l'investimento, ok? 30-40%, che cosa succede? Che magari io ci investo un milione, ha una valutazione di 10 milioni. Poi questa azienda continua, però la crescita diventa stagnante e quindi poi viene acquisita da un'altra azienda più grande oppure da un competitor sempre per 10 milioni, oppure viene acquisita per meno, però gli investitori hanno delle clausole che gli permettono di avere un ritorno minimo nel caso in cui ci siano questo tipo di situazioni. Poi appunto sono dettagli che affronteremo un'altra volta magari, però appunto un VC si aspetta che il 50% vada a zero, che il 30%, 40% ritorni magari 1, 2, 3 volte quello che è stato investito, che può sembrare positivo come ritorno, ma semplicemente raddoppiare l'investimento in 7-10 anni di vita di una startup che poi viene venduta, in realtà vuol dire comunque performare peggio di quella che è la media del mercato azionario. Quindi questo non è un qualcosa che i fondi di investimento che hanno messo soldi nel mio fondo VC si aspettano, vogliono chiaramente un qualcosa di migliore. E i soldi sono fatti tendenzialmente su quel 10-20% di aziende che sono di grande successo, un numero che spesso è più vicino al 10 che non al 20. Però ecco appunto che cosa succede? Perché all'interno del mondo delle startup ci sono dei casi in cui il ritorno non è di 5-10 volte, ma è di 50, 100, 200, 300. E quello che come VC, come angel investor cerchiamo di fare è quello di scommettere su tante startup diverse, cercando di avere il più alto numero possibile di questi unicorni, come vengono chiamati, che poi arrivano al miliardo di valutazione o più e che ci consentono di ripagare, in un certo senso, tutte quelle aziende che invece sono morte, che non ci hanno dato nessun tipo di ritorno. Immaginiamo che il mio fondo abbia raccolto 100 milioni di euro da privati o da altri fondi di pensione. Bene, per rispettare i parametri che abbiamo detto all'inizio, questo vuol dire che io entro 7 anni devo avere mezzo miliardo di dollari da ridistribuire a tutti quelli che sono i miei partner e a me stesso, visto che ho gestito il fondo. Quindi decido di investire questi 100 milioni in 10 startup differenti, sempre allo stesso prezzo immaginiamo, e investendo sempre 10 milioni di euro. Quindi io avrò la mia percentuale di proprietà di questa azienda e sappiamo già che 5 di queste 10 ritorneranno 0. Quindi io rimango con 5 aziende, un valore totale di 50 milioni e poi in base alla performance di queste altre 5 aziende vedrò quanto il mio fondo riuscirà ad avere di ritorno. Il 30%, come abbiamo detto prima, avranno un ritorno simile a quello che ho investito, quindi magari avrò 40-50 milioni indietro e le altre due devono essere in grado di garantirmi quei 450 milioni che invece mancano rispetto al mio obiettivo principale. Ci sono due opzioni, o che tutte e due queste aziende mancanti mi danno un ritorno che sia 20-25 volte l'investimento iniziale, oppure quello ancora più probabile è che magari una di queste due riesca a darmi un ritorno di 5 volte, mentre l'altra riesca a crescere di magari 50-100. E in questo caso il mio fondo sarà stato un fondo di successo. Ecco, forse ora capite perché quando cercate di raccogliere soldi da investitori è fondamentale che voi riusciate a dimostrare che la vostra azienda potrebbe, chiaramente, essere parte di quel 10% che tra 5-10 anni riuscirà a dargli un ritorno di 20-30-50-100 volte rispetto a quello che vale adesso. Quindi è anche il motivo per cui molte aziende che si definiscono startup non sono in realtà startup, una startup per definizione deve essere in grado di poter sostenere questi tassi di crescita, raggiungere una valutazione di almeno 200 milioni di dollari che è veramente il minimo indispensabile nel caso migliore possibile, ok, se tutte le cose dovessero andare bene. Perché? Perché altrimenti non vale la pena, non vale il tempo di questi investitori e andremo a vedere appunto come questo si coniuga al fatto che non si vuole che le startup facciano profitto. Però prima di passare a questo aspetto volevo farvi notare un paio di numeri perché appunto fino adesso quello che ho dipinto è un quadro abbastanza deprimente per quanto riguarda l'investimento in startup. Cioè perché rischiare così tanto alla fine una probabilità su 10 quella a cui noi facciamo affidamento ed è facile che invece magari investendo in 10 aziende nessuna di queste sia un unicorno. È una cosa talmente rara che stiamo veramente giocando col fuoco e con tanti soldi nostri se siamo angel o di altri se siamo VC. Bene, però ci sono quegli outlier, quelle eccezioni che veramente giustificano o che magari fanno talmente tanto ingolosire alcuni di questi investitori che continuano a tentare ad investire. Per esempio, i primi investimenti in Uber hanno fatto ritorno di quasi 5.000 volte l'investito. Quindi voi immaginate di investire 200.000 dollari in Uber che penso sia stato uno dei casi più comuni nei primissimi round di questa azienda e poi ricevere 5.000 volte quel valore dopo 10 anni una volta che Uber ha fatto il listing sul mercato azionario. Jeff Bezos, sì proprio quel Jeff Bezos di Amazon ha fatto la sua prima fortuna non con Amazon perché Amazon chiaramente ci ha messo tanto tempo prima di arricchire anche Jeff in maniera pratica non solo a livello di quantità di azioni ma i primissimi soldi importanti fatti da Jeff sono arrivati da un investimento in Google. Jeff Bezos è stato uno degli angel in Google ha investito 250.000 dollari che si sono trasformati in 280 milioni di dollari il giorno in cui Google si è quotato in borsa. cioè capite che il ritorno è stato importantissimo. Quindi in generale quello che vogliamo fare se siamo VC è garantire che stiamo investendo in potenziali unicorni questo magari aumenta anche la possibilità che le aziende in cui investiamo falliscano perché un conto è investire nel ristorante anche se i ristoranti falliscono tanto però facciamo finta un conto è investire in un business model tipico che è già stato provato che non ha grandi aspettative magari il tasso di fallimento sarà più basso un conto è investire su tanti grandi scommesse che chiaramente avranno un tasso di fallimento più alto ma che potenzialmente possono diventare Uber possono diventare Google possono diventare Apple queste cose succedono succedono molto 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 raramente però quando succedono se succedono quando siamo noi a investirci il ritorno e il guadagno fatto veramente è generazionale siamo a posto per la vita fino adesso ho escluso da questo discorso anche tutte quelle aziende che sono cosiddette bootstrapped quindi aziende che non hanno raccolto alcun tipo di fondo da investitori nel corso della loro storia ci sono alcuni casi di successo non tantissimi però comunque esistono uno di questi è NordVPN di cui ho parlato sul canale di recente se volete andare a dar un'occhiata il video è in descrizione o qui nelle schede e NordVPN fino a poco tempo fa non ha raccolto alcun tipo di fondo da investitori esterni semplicemente hanno continuato a utilizzare i profitti che facevano dalla vendita dei prodotti e magari il capitale iniziale messo dai fondatori dall'acceleratore di cui fanno parte per finanziare la propria azienda questo perché accade meno di rato accade meno di rato perché è più difficile che un'azienda che vende una startup che vende un prodotto sia in grado di rifinanziarsi in maniera così rapida e così efficace però quando si comincia a vedere questo trend i fondatori magari preferiscono aspettare prima di ricevere investimenti perché sanno che magari in 4 anni 5 anni riusciranno sempre a ricevere investimenti ma ha una valutazione ancora più alta e quindi avendo un upside ancora maggiore dovendo rinunciare a meno delle loro quote percentuali rispetto a quelle degli investitori un altro esempio illustre è stato Mailchimp che se non sbaglio è stata acquistata per qualche decina di miliardi di miliardo di dollari nel 2021-2022 e che non ha ricevuto alcun tipo di fondi esterni un altro tema che non ho trattato è quella della diluizione delle quote che chiaramente ha un impatto importante su quelli che sono i ritorni quando investiamo in startup ma avrebbe complicato il discorso di 50 volte quindi per adesso lo lasciamo da parte poi parleremo anche di questo aspetto in un altro video spero che intanto i concetti chiave vi siano entrati in testa un'altra stat interessante è che in media il tempo che un'azienda necessita per diventare un unicorno al giorno d'oggi quindi per raggiungere quel miliardo di dollari di valutazione è di 7 anni si parla spesso di questi overnight success ma 7 anni in media per raggiungere quel tipo di valutazione lì e 7 anni in cui l'azienda deve continuare a crescere anno su anno del doppio, del triplo quindi anni anche molto stressanti da quel punto di vista ma adesso veniamo a un'altra delle grandi domande del video cioè perché gli investimenti non vogliono che le startup facciano profitto il primo aspetto si ricollega molto a questa idea delle startup che ritornano 50, 100, 200 volte l'investimento cioè il fatto che se noi abbiamo profitto alla fine dell'anno soldi che sono rimasti da redistribuire per arricchire i founder e gli investitori vuol dire che non stiamo investendo quei fondi potenzialmente in marketing per esempio nel pubblicizzare di più il nostro prodotto e perché questo è estremamente importante nelle startup perché il modo in cui le startup riescono a raggiungere questo tipo di valutazioni così alte in relativamente poco tempo è che vanno ad attaccare magari il mercato in maniera nuova in maniera innovativa vogliamo cercare di crescere il più possibile all'inizio in modo da assumere una posizione di leadership nel mercato c'è anche un altro video su libro positioning che si collega a questo discorso che ritengo uno dei libri di marketing migliori di sempre quindi andate a vedere poi se vi interessa di più però ecco per esempio Uber Uber ha reinvestito tantissimo di quello che raccoglieva dagli investitori perché questo gli ha permesso di diventare leader del mercato di uccidere l'industria dei taxi o comunque di far male all'industria dei taxi in tantissimi paesi del mondo allo stesso tempo una volta che poi hanno acquisito questa posizione vantaggiosa sono riusciti a avere una valutazione molto alta e cominciare piano piano ad aumentare i loro profitti l'ultimo quarter di Uber Q2 mi sembra del 2022 è stato incredibile perché hanno dimostrato che una volta che acquisisci gli utenti che gli utenti usano il tuo prodotto e che in un certo senso diventano dipendenti da quel prodotto continuano a usarlo perché gli fa comodo perché gli piace allora puoi cominciare a puntare al profitto una volta che sei listato sul mercato azionario ma prima è meglio utilizzare quel denaro per cercare di crescere il più velocemente possibile sia perché appunto te lo puoi permettere sia perché altrimenti cosa succede arrivano competitor che copiano il tuo modello di business che possono prenderti fette di mercato sia nello stesso paese che in altri paesi insomma poi le dinamiche cambiano tantissimo in base all'industria e all'azienda di cui stiamo parlando gli altri due aspetti sono molto più pratici il primo è che ci vuole molto più tempo per rientrare da un investimento in maniera significativa se si parla di redistribuzione degli utili andando a vedere insomma l'utile che si potrebbe aspettare da delle start up per riuscire a raggiungere quel 20-30% di ritorno annuo di cui stavamo parlando veramente le aziende dovrebbero avere una qualità eccezionale un utilizzo del cash veramente oculato e è un qualcosa di irrealistico ecco chiaramente è possibile ma ancora meno realistico del fatto che un'azienda su 10 riesca a ritornare tutto quello che serve per alimentare il fondo il secondo aspetto è che è molto complicato controllare le aziende quando si tratta di redistribuzione degli utili che cosa voglio dire beh intanto io come fondatore dell'azienda che ci lavoro giorno dopo giorno sarò incentivato a aumentare le spese aziendali in modo da diminuire i profitti questa è una cosa che si fa tanto anche quando come freelance magari poi si raggiunge un certo livello non si fa più la partita IVA ma si apre un'azienda la mia commercialista quando avevo appunto questa mia questa mia azienda personale continuava in continuazione a dirmi di mettere cose come spese aziendali quindi magari quando andavo fuori a pranzo durante l'orario di lavoro quando prendevo un aereo per viaggiare c'erano anche aspetti lavorativi quando in generale c'era qualcosa da comprare relativo all'azienda si cercava di scalare quei soldi dall'azienda proprio perché a fine anno avere profitti vuol dire che i profitti vengono tassati un altro aspetto interessante legato a questa parte degli investimenti anche se chiaramente anche i profitti da exit delle startup vengono tassati però magari poi in quel caso finirebbero in un'azienda quindi è un po' diverso però appunto verrebbero tassati e quindi il ritorno sarebbe minore se io fossi il founder di una startup che ridistribuisce gli utili sì sicuramente a me stesso ma anche agli investitori sarei più incentivato ad aumentare le spese per cercare di diminuire leggermente quel profitto magari comincio a aumentarmi lo stipendio comincio a pagarmi la macchina aziendale spese in un certo senso legittime che però founder di una startup all'exit non farebbe perché il modo in cui quel founder pensa di fare soldi la maggior parte dei propri soldi è tramite la vendita di questa startup non appunto pagandosi le spese in maniera diciamo tramite l'azienda chiaramente voi direste ok ma si possono controllare questi aspetti questa è una cosa che è valida anche per tutte le aziende quotate sul mercato azionario e questa cosa non succede così spesso sì e no perché perché se pensiamo al mercato azionario ci sono milioni di persone che guardano ai bilanci ci sono tantissime regolamentazioni non è un lavoro che devo fare io come investitore ma se fossi un angel investor che deve controllare i bilanci di 20 aziende in cui ho investito per assicurarmi che non mi stiano prendendo in giro a quel punto il gioco non vale la candela cioè il tempo necessario per fare questo tipo di lavoro è incredibile è uno sbatti come direbbero i nostri amici a Milano bene quindi questo tipo di investimento che punta i profitti è più comune nelle piccole e medie imprese in cui magari io investo e do una percentuale significativa del business magari ho il 10 15 20% anche 50% nei ristoranti succede spesso chi mette il capitale 50% lo chef è 50% insomma dipende chiaramente anche lì dai casi però in quel caso ho una significativa parte del mio capitale personale investita lì non ho tanti di questi investimenti e quindi faccio in modo che il tempo che investo in questa attività di review dei processi sia worth quello che ci ho speso quello che ci ho investito bene io spero che questo video vi sia stato utile per capire meglio il mondo degli investimenti nelle start up come funziona se volete altri video di approfondimento se avete dubbi o domande potete lasciarli assolutamente in descrizione sono felice di di leggerli e di poi appunto magari spiegarvi meglio in altri video già scrivendo questo script ho avuto tantissime idee su altri temi che possiamo approfondire quindi sono contento di aggiungere altro materiale lì noi come al solito ci vediamo al prossimo video voi potete fare le solite cose che i youtuber vi chiedono di fare mi piace insomma iscrizioni varie ci sentiamo alla prossima ciao ciao